Un cordiale benvenuto a tutti gli iscritti e ai futuri iscritti del canale Sovranista. Oggi analizzeremo un altro importante documento storico, lo faremo con l'avvocato Giuseppe Falma. Ciao Giuseppe! Un caro saluto a tutti! Parliamo niente meno che del manifesto di Ventotene. Nonostante tutto c'è chi oggi dice che questa Europa infrante il sogno europeo e che questa non è l'Europa che voleva Spinelli. Sei d'accordo con questa frase che dicono oggi? No, Spinelli voleva un'Europa peggiore secondo me. Cioè nel senso che quella che è nata nel 57 a Roma non è l'Europa di Spinelli fortunatamente. L'Europa di Spinelli è quella che qualcuno a sinistra oggi vorrebbe far nascere con gli Stati Uniti d'Europa. I trattati di Roma del 1957 istituirono tre comunità al plurale dove nessuno Stato cedeva alla propria sovranità ma la limitava unicamente nella commercializzazione, nella produzione del carbone e dell'acciaio. Un qualcosa di completamente diverso dal manifesto di Ventotene e di Spinelli che invece voleva gli Stati Uniti d'Europa. E del mondo anche. Che è una follia. Ok, incominciamo. Vediamo comunque le frasi principali. Ok, frase numero 1. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, poiché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera un suo spazio vitale territori sempre più vasti, che gli permettono di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da alcuno. Allora, il manifesto è stato scritto nel 1941, quindi all'alba della seconda guerra mondiale. Sì, ma guarda, gli stati nazionali nascono nell'epoca moderna, per cui nascono con un principio fondamentale, che è quello francese dell'età se moi, lo Stato sono io. Che all'epoca era impersonato dal re, che aveva il potere assoluto, quindi il potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Questo poi ha comportato che ciascuno, soprattutto per cercare non solo di poter sopraffare gli altri, questo non è proprio così, ma per cercare di avere nuove terre su quali estendere la propria sovranità e quindi nuove terre da poter coltivare e dare ai propri sudditi, ha cercato di prevalere sugli altri stati. Questo è un concetto nazionalista, cioè questo è il nazionalismo, lo Stato-Nazione, che poi cerca di prevaricare sugli altri. Ma in realtà lo Stato-Nazione non esiste più, perché la sovranità, che secondo la concezione settecentesca era una sovranità forte, in mano al sovrano assoluto, si è poi trasformata più avanti nei secoli, fino a diventare, ad esempio per quanto riguarda noi, la nostra Costituzione, una sovranità debole, cioè una sovranità che si rapporta pacificamente in collaborazione con gli altri stati. Per cui la nostra non è una sovranità totalitaria, è una sovranità debole, cioè debole non significa debole nel senso proprio del termine, cioè debole significa che è capace di non sopraffare gli altri, ma di autodeterminarsi, ma allo stesso tempo di collaborare e cooperare con gli altri. Quindi quello che scrive Spinelli è superato dall'approvazione della nostra Costituzione del 48, che non prevede uno Stato-Nazione, ma prevede la sovranità popolare, quindi che la sovranità appartiene al popolo, in una nazione libera e sovrana, che in ogni caso però, per il principio di sovranità debole, non fa la guerra agli altri stati, ma coopera e collabora con gli altri stati, che è poi il vero senso dell'articolo 11 della Costituzione. Quindi se Spinelli voleva mettere in dubbio, diciamo così, voleva criticare gli stati e nazioni perché si fanno la guerra, il problema è risolto con la nostra Costituzione del 48. Andiamo avanti. A causa della interdipendenza economica di tutte le parti del mondo, spazio vitale per ogni popolo che voglia conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna è tutto il globo, ma si è creata la pseudoscienza della geopolitica, che vuol dimostrare la consistenza della teoria degli spazi vitari per dar veste teorica alla volontà di sovranfazione dell'imperialismo. Ma insomma, non sono un concetto vuoto, insomma, che cosa vuol dire? Queste sono fasi buttate lì, c'è già... Puoi ripetere dalla prima parte, per favore, perché mi sono perso un passaggio all'inizio. A causa della interdipendenza economica di tutte le parti del mondo, spazio vitale per ogni popolo che voglia conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna è tutto il globo, quindi un antenato della globalizzazione, la sostanza. Sì, ma tu hai capito qualcosa in questa frase qua, c'è una frase che non è sempre una supercazzola, nel senso che non si capisce il senso. C'è cos'è un inizio di globalizzazione, c'è cos'è un manifesto base della globalizzazione, c'è proprio parole vuote che non hanno senso. Probabilmente intendeva, nella interdipendenza economica a cui faceva riferimento, appunto, la necessità di arrivare a un processo globale, quindi l'ennesimo errore che Spinelli e Rossi commisero all'epoca. Andiamo avanti. Il popolo ha sì alcuni fondamentali bisogni da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare. Mille campane suonano nelle sue orecchie, con i suoi milioni di teste non riesce ad orientarsi e si disdrega in una quantità di tendenze in lotta fra loro. Nel momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro di sé uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni. Pensano che il loro dovere sia formare quel consenso e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che guidino sapendo dove arrivare. Questo era il senso di emozia che aveva pure Spinelli. Sì, sì, nel senso che, ma questo è un concetto che per esempio oggi ha ribadito Sabino Cassese, che è stato giudice della Corte Costituzionale, se non ero anche presidente, quale che ha detto che il popolo a volte sbaglia a votare e che quindi ci vuole... C'è capito questo? Se il popolo vota come dicono loro è bene, se no è il popolo a sbagliare a votare. E quindi il concetto di Spinelli questo elemento, seppur non direttamente ma indirettamente, emerge assolutamente. Cioè nel senso che questa è la vera elite, questa è la vera elite intellettuale, che però risponde a dei processi che con la democrazia non c'entrano a niente. Quindi ad esempio da Spinelli a Rossi a Cassese e Cottarelli e compagnia bella, abbiamo lo stesso passaggio, la stessa linea conduttrice. Cioè la democrazia va bene fin quando il popolo si esprime secondo quanto è l'interesse della stessa elite. Se il popolo invece contrasta con il suo voto, con la sua volontà, la volontà dell'elite, allora il popolo ha sbagliato a votare. Questo è un concetto che va avanti da sempre, insomma con la vera elite intellettuale, da Spinelli a Cassese. Andiamo avanti. Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Ecco, vedi, qui l'ha detto, insomma. Dice l'abolizione degli stati sovrani? L'abolizione è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Eh sì, quindi lui vuole il superamento, e questo è il vero processo di globalizzazione politica. Cioè questo voleva l'annientamento degli stati sovrani verso un super stato europeo, quindi gli Stati Uniti d'Europa. Follia all'epoca, follia oggi. Perché la sovranità degli stati è uno degli elementi che è inserito nelle Costituzioni democratiche, soprattutto nel dopoguerra. Cioè poi la nostra Costituzione, che ha all'interno due concetti di sovranità, sovranità interna e sovranità esterna. La sovranità interna è quella di cui è l'articolo 1. Quindi la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei modi, nelle forme e nei limiti della Costituzione. Per cui è il popolo che attraverso, che insomma è titolare della sovranità, cioè la sovranità gli appartiene, cosa fa? Attraverso i limiti stabiliti dalla Costituzione, quindi attraverso la potestà legislativa delle Camere, e il Parlamento esercita poi la sovranità popolare. Quindi sovranità interna. La sovranità esterna invece è quella di cui è l'articolo 11, per cui le limitazioni soltanto in favore di quelle organizzazioni internazionali che possono garantire la pace e la giustizia tra le nazioni. Detto questo, il superamento degli stati comporta, come dice Spinelli, che bisogna tendere all'abolizione degli stati nazionali, ma il superamento degli stati nazionali comporta la distruzione anche dei concetti di sovranità, interna e sovranità esterna, che sono rinsiti nella nostra Costituzione. Quindi è un attentato alla Costituzione, anche perché l'articolo 139 prevede quale definitiva la forma di Stato repubblicana, dove per forma di Stato non si intende soltanto quello opposto alla monarchia, cioè la Repubblica non è solo la forma di Stato opposta alla monarchia, ma è la definitività dei tre elementi costitutivi dello Stato, in quanto la Repubblica è besta istituzionale dello Stato. Quali sono i tre elementi costitutivi dello Stato? Popolo, territorio e potestà di imperio, cioè la sovranità. Quindi nel momento in cui si abolisce, come dice Spinelli, si deve abolire la sovranità degli stati nazionali nei confronti di un super Stato europeo, altro non si fa che attentare alla nostra Costituzione, e in principal modo al principio di sovranità interna, sovranità esterna, e della definitività della forma repubblicana intesa quale concetto dello Stato, quindi quali elementi costitutivi dello Stato, quindi popolo, territorio e sovranità. E quindi quello che dice Spinelli ancora una volta va verso un percorso sbagliato e oggi costituisce, costituirebbe attentato alla Costituzione. Ok, ultima frase. No, no, no. È ormai dimostrata l'inutilità, anzi la dannosità, di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni, rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la Costituzione interna di ogni singolo Stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. Anche qui, insomma, giriamo sempre intorno allo stesso concetto. Giriamo sempre intorno allo stesso concetto. Quindi chi oggi parla del manifesto di Ventotini come un punto di riferimento per l'Europa non fa altro che dire basta, superiamo la nostra Costituzione del 48. Stati Uniti d'Europa, eventuali Stati Uniti d'Europa, così come gli scrive Spinelli, e Costituzione italiana del 48, praticamente sono l'uno opposto dell'altro. Quindi chi oggi si lava la bocca con la parola Costituzione e poi propone gli Stati Uniti d'Europa o è un imbecille oppure tradisce apertamente la Costituzione primigenia. E' il manifesto di Spinelli, non è l'Europa. Come dicevo prima, l'Europa nata a Roma nel 1957 è completamente diversa da quello che diceva Spinelli. Noi dobbiamo tornare ad una dimensione europea pre-Maastricht. Cioè noi dovremmo uscire dall'Euro e dirigerci verso la comunità economica europea del 57. Non andare, come dice Spinelli, verso gli Stati Uniti d'Europa. Quindi se veramente si vuole salvare l'Europa bisogna smantellare questa UE, questa Unione Europea, che non è l'Europa, e tornare alle condizioni pre-Maastricht. Cioè tornare ai trattati di Roma del 1957 dove gli Stati sostanzialmente non limitano, anzi anche formalmente, non limitano la loro sovranità nel campo monetario, nel campo economico, nel campo legislativo e tutt'altro. Mantengono queste sovranità. La limitano soltanto, ad esempio, nella produzione delle materie prime, in quel caso il carbone, nella produzione dell'acciaio, nella commercializzazione di questi prodotti e quant'altro. Quindi dobbiamo tornare a pre-Maastricht, non dobbiamo andare verso gli Stati Uniti d'Europa. Altrimenti si attenta alla Costituzione primigenia. Andiamo avanti. Con la propaganda e con l'azione, cercando di stabilire in tutti i modi accordi e legami fra singoli movimenti che nei vari paesi si vanno certamente formando, occorre sin da ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice, sorta da secoli in Europa, per costruire un saldo Stato federale il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali, spezzi decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari, abbia gli organi e i mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli Stati federali le sue deliberazioni, diretta a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli Stati e stessi l'autonomia che consente una plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli. Ma guarda, lui propone qui l'esercito europeo superando quelli nazionali. Uno potrebbe anche essere d'accordo con un esercito europeo minimale che si occupi soltanto delle frontiere esterne e dei problemi come l'immigrazione e il terrorismo e mai delle questioni interne. Uno su questo ci potrebbe anche ragionare. Ma addirittura un esercito europeo che superi gli eserciti nazionali significa uno smantellare un altro residuo di sovranità degli Stati ledendo le costituzioni nazionali e addirittura attentando alle costituzioni nazionali. Ma poi voglio proprio vedere gli Stati Uniti se ti fanno fare l'esercito europeo sapendo che è un altro concorrente a livello continentale. Su questo gli Stati Uniti sono una garanzia e per fortuna l'esercito europeo secondo me non si farà mai. Anche perché insomma è vero che ieri da Quisgrana Germania e Francia hanno firmato un trattato che prevede l'esercito europeo e sono americani e vedi come gliela fanno come gliela fanno pagare da questo punto di vista. Quindi anche qui Spinelli non fa altro che scrivere delle cose che poi saranno contrarie alla Costituzione del 48 anche se poi lui l'ha scritta nel 41. Beh ovviamente non poteva saperlo. Non poteva sapere, beh insomma lui e Rossi erano lì imprigionati stavano lì a fare un cazzo la mattina la sede quindi hanno scritto questa cosa qua poi insomma questi erano prigionieri lì però potevano scrivere un manifesto del genere insomma le condizioni di prigionia probabilmente non erano così pesanti ma allo stesso tempo non erano cioè non erano così leggere ma allo stesso tempo non erano poi così pesanti perché alzimenti sto manifesto come lo scriveva. Beh insomma cari ascoltatori chiunque se d'ora in poi qualcuno che ne so in tv, sui media dice che insomma bisognerebbe ritornare a Ventotene che questa non era lui dopo di Spinelli fate presente queste frasi. Bene Giuseppe io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te e alla prossima puntata. Seguitemi su Facebook, su Telegram, su Twitter alla prossima puntata.